ben trovati amici del tabloid tv oggi siamo qui con un ospite d'eccezione un conduttore regista esordiente federico sagliola ciao federico grazie per essere qui con noi ciao grazie grazie a voi allora federico noi sappiamo che oggi sei qui perché a settembre di quest'anno il precisamente il 21 settembre del 2015 è nato un nuovo come dire un nuovo canale youtube è nata una nuova web series che poi ha avuto un buon successo su internet che si chiama romanzo demenziale matti da legare si romanzo demenziale matti da legare è questa web series italiana che personalmente ho ideato scritto e realizzato che è nata il 21 settembre del 2015 naturalmente dietro c'è tanto lavoro tanta scrittura però siamo partiti ufficialmente su internet il 21 settembre di quest'anno ed ha riscontrato già un buon successo già dall'inizio siamo stati abbastanza seguiti e poi siamo stati adottati anche da alcune tv locali a complimenti quindi un ottimo successo che però sappiamo che ha dato vita a uno spin off come dire di romanzo demenziale ovvero natale demenziale no già il titolo è tutto un programma sembra proprio un cine panettone sembra proprio il titolo di un cine panettone questo natale demenziale è uscito è nato come dire in questi giorni si questo forse perché la formula di romanzo ha funzionato la ricetta di romanzo perché romanzo è composto da da pillole da sketch comici divertenti veloci montati montati in sequenza veloce e assolutamente non volgari non violenti diciamo noi siamo un po quelli del pallino verde in televisione questa formula ha funzionato e ha dato vita anche allo spin off natale demenziale feste da dimenticare che è considerato un po il primo cine panettone web perché al contrario di romanzo a differenza di romanzo che ha puntate da 3 4 minuti al massimo 5 minuti invece natale ha una maxi puntata da 31 minuti e 40 secondi quindi quasi 32 minuti comunque mezz'ora di risate e soprattutto sketch tutti tutti ambientati sul natale quindi è proprio un primo cine panettone web ma una curiosità come nasce l'idea di romanzo demenziale matti da legare e natale demenziale feste da dimenticare l'idea di romanzo nasce perché io stavo scrivendo un libro un libro che si chiamava il buongiorno si vede dal cretino era una raccolta di battute di sketch che erano capitati veramente nella vita di tutti i giorni a scuola a casa in famiglia al lavoro in giro per strada come dire io ho raccolto dei momenti secondo me carini divertenti che mi erano capitati veramente di vivere e poi col tempo ho avuto l'idea onestamente vedendo anche altri prodotti su internet di trasformare questo libro in video in video da poi mettere su internet naturalmente e siamo partiti con 3 4 amici così per caso come come dire per gioco forse anche per sbaglio siamo partiti realizzando questi queste pillole questi video molto brevi che poi col tempo li ho chiamati invece prima romanzo liceale perché il questo titolo il buongiorno si vede dal cretino non so perché non mi piaceva più gli ho chiamati prima romanzo liceale però poi ambientare tutti gli sketch in un liceo sarebbe stato molto più difficile e poi lavorando come comparsa su romanzo criminale e su poi appunto sui liceali dove appunto ho preso l'idea di romanzo liceale poi ho cambiato il romanzo demenziale e poi ho dovuto aggiungere il sottotitolo matti dalle gare perché un romanzo demenziale esiste già ed è un uno spettacolo teatrale parodia di romanzo criminale noi invece col sottotitolo matti dalle gare non abbiamo nulla a che vedere con romanzo criminale se non l'assonanza con il titolo come per esempio hanno fatto i ragazzi dei soliti idioti con con il classico film storico i soliti ignoti il titolo simile che richiama sempre riscritto in chiave comica che però non ha nulla a che vedere con il film originale sì ma quanto è difficile creare un cast mettere insieme un cast questo è molto difficile perché noi siamo tutti attori esordienti naturalmente non non viviamo di questo lavoro ma c'è chi chi lavora in polizia chi è rappresentante anche c'è anche poi chi è disoccupato c'è chi abita lontano perché oltre al lavoro dobbiamo calcolare che tra di noi abitiamo tutti molto distanti tra noi perché c'è bianca per esempio che abita a viderbo c'è alex che abita a pomezia io abito ad ostia quindi la difficoltà sa sì nel trovare lo stesso tempo libero nello stesso momento per tutti o per lo meno per tutti quelli che servono in quel momento in quella scena trovare la location disponibile quel giorno a quell'ora quando ci siamo tutti e soprattutto organizzare anche gli spostamenti quello sì non è stato facile assolutamente però con molto impegno e molta passione ovviamente con sacrificio però ce l'abbiamo fatta e ci siamo riusciti a fare quello che volevamo quindi tanti attori non professionisti diciamo esordienti però c'è anche qualche cameo di attori conosciuti sì noi siamo sette attori principali poi ce ne sono dietro 40 secondari e poi ci sono dei camei molto divertenti di attori affermati conosciuti come stefano masciarelli che ha partecipato in ben due promo di romanzo demenziale insieme a bruscolino e poi questi promo sono stati inseriti in una scena poi un conduttore televisivo e cantante soprattutto rick hatton lui è stato un conduttore di quella che fu 20 anni fa se non sbaglio anche di più video music persona molto conosciuta nell'ambiente rock nell'ambiente delle radio anche locali romane e soprattutto a londra e patata abbiamo fatto riuscire fuori questo personaggio che io seguivo da bambino nei cine panettoni nei film nelle serie eccetera ovvero roberto brunetti persona che ultimamente era un po sparita dagli schermi e questo per quanto riguarda romanzo demenziale per quanto riguarda natale demenziale invece c'è la co conduttrice di aldo biscardi nel processo del lunedì giorgia viero e poi l'attrice teatrale bravissime tutte e due giorgia e luciana frazzetto attrice teatrale molto conosciuta negli ambienti del teatro romano romana era la cassiera degli spot del crodino persona gentilissima molto disponibile che è stata molto brava insieme a giorgia naturalmente su natale demenziale quindi anche come dire la partecipazione di persone affermate di persone conosciute a noi ci fa molto piacere perché significa che il prodotto c'è il prodotto funziona e soprattutto quando una persona ci mette il nome e la faccia ovviamente noi non possiamo che essere contenti ci sono sketch da sette secondi come da un minuto e mezzo ma quanto lavoro c'è dietro ad un singolo sketch e beh c'è tantissimo lavoro perché anche un brevissimo sketch come appunto hai detto di sette secondi comunque va inventato va scritto in base ai tempi di internet in base alle nostre disponibilità in base agli attori che avevo a disposizione e quindi c'è tanto tanto lavoro sia prima quindi la realizzazione la scrittura l'idea e sia durante perché comunque devi trovare la location devi fare le prove le luci i colori l'audio i microfoni qualsiasi cosa e poi il montaggio il montaggio che lo fai ci provi però delle volte monti una scena e non è non funziona non hai tempi giusti quindi devi rimontare da capo c'è tantissimo lavoro che però con passione e voglia di mettersi in gioco si fa si fa tranquillamente però c'è tanto tanto lavoro ovviamente dietro un video uno sketch di sette secondi c'è meno lavoro rispetto a un video a uno sketch di un minuto e mezzo ma comunque c'è c'è tanto 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 lavoro ma quindi dietro c'è uno studio c'è come dire una base non ci si improvvisa così beh sì ci sono degli studi dietro naturalmente ci deve essere una base non ci non ci si improvvisa così nel mondo dello spettacolo che visto da fuori sembra tutto bello tutto rose e fiori personalmente per quanto mi riguarda la gavetta io l'ho iniziata subito da bambino vedendo tanti 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 film ma vedendoli non come perdita di tempo mi vedo un film ma vedendoli proprio spiando il film guardando bene studiare il film quale inquadratura fare io forse quell'inquadratura l'avrei fatta in un altro modo l'avrei montata differentemente quindi già sembra uno scherzo sembra un gioco ma già si inizia vedendo tanti tanti film da bambino poi naturalmente ho frequentato questi studi frequentato l'istituto cine tv rossellini di roma con la specializzazione in ripresa cinematografica televisiva ed è una scuola dove ti insegna il montaggio è una scuola che ti insegna la ripresa la ripresa sonora quindi ti fa diventare fonico ti fa diventare cameraman ti fa diventare tecnico del cinema tecnico audiovisivo e naturalmente è una cosa che serve un titolo che serve se vuoi fare dei video di qualità ovviamente non siamo deniro o spilberg però comunque siamo dei ragazzi che realizzano dei video secondo me accettabili e lo dimostra il fatto che appunto ci hanno adottato parecchie tv locali noi sappiamo che sono nate due nuove piattaforme su internet ovvero netflix e infiniti queste piattaforme trasmettono on demand di tutto dai cartoni animati dalle serie ai film storici e quant'altro ma quanto è importante il web in questo momento internet in questo momento è il futuro sì sicuramente sarà il web perché il web ti raggiunge dappertutto a differenza della televisione ti raggiunge per strada con un semplice smartphone con tablet con un telefonino quindi sì sicuramente il web sarà il futuro anche perché sul web tu potrai vedere un film una trasmissione quello che vuoi quando lo vuoi e come vuoi quindi non esiste più devo stare alle nove a casa perché inizia quel film ma voglio vedere una cosa clicco metto il nome e la vedo perché tanto comunque il web sta lì purtroppo ancora non siamo ben attrezzati con connessione antenne eccetera però sarà soltanto questione di tempo in alcune zone manca il wifi gratuito quindi purtroppo siamo ancora un po' indietro però sicuramente il web sarà il futuro queste web series come sono chiamate ovvero serie per il web stanno prendendo molto piede tra cui alcune arrivano anche ecco noi siamo arrivati per ora ad alcune tv locali poi c'è chi arriva al cinema c'è chi viene contattato per fare un seguito cinematografico della propria web series oppure viene calcolato il web soltanto come una vetrina di attori e conduttori di quelli che appunto saranno i protagonisti dello spettacolo del futuro quindi sì sicuramente il web è molto importante sicuramente sarà al futuro e quindi ricordiamo i contatti per chi volesse seguire romanzo demenziale matti dalle gare o natale demenziale sì i nostri contatti su youtube sono romanzo demenziale matti dalle gare c'è proprio appunto la pagina youtube con tutti i video di romanzo e il natale demenziale poi su facebook per rimanere aggiornati sulle novità le curiosità della serie e la fotogallery facebook sempre romanzo demenziale matti dalle gare oppure instagram romanzo punto demenziale grazie a voi del tabloid grazie agli amici del tabloid per questo spazio su sul romanzo e il natale demenziale bene allora ringraziamo federico sagliola per questa intervista per il suo tempo che ci ha concesso federico sagliola eppure qualcosa di somigliante c'è con me comunque federico sagliola vi saluta e vi dà appuntamento sul web con romanzo demenziale matti dalle gare o natale demenziale ciao grazie 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 grazie